Allora, oggi sono qua per svelare il mistero a tutti di sto TikTok che c'ho per te in vaso di suore Che pigliano 2500 euro al mese, stai cazzo di suore, si, cazzo di suore, non me ne frega niente Cazzo di suore, perché non è possibile, io ho sbagliato tutto nella vita Quindi adesso sto andando a cercare su Google Quanto guadagnano preti e suore in Italia? Suore e frati non hanno diritto a stipendio Quindi è Google che dice stronzate, che vuole coprirsi le suore, o è TikTok che rompe il cazzo? Qui c'è da svelare un mistero, perché adesso sono stanca? 2500 euro al mese, ma subito mi sto andando a instatuare No, sto andando subito in chiesa a prendere i voti, tanto che cazzo ci vuole Basta che dico che mi tocca il peccato e mi mangio un'ostia e divento una suore La bella vita fanno A me Google dice che loro non hanno il diritto di prendere lo stipendio Aspetta, non hanno il diritto a prendere lo stipendio Questi religiosi infatti fanno dei lavori per poter sopperire Sopperire? Sopperire? Che cazzo seppelliscono? Vedi? C'è qualcosa so... Alla necessità di sostentamento? Ma è italiano sta roba! O vengono aiutati dalla cassa comune della congregazione Congregazione Che cazzo è la congregazione? Vedi che i soldi da qualche parte sbucano? No, non ci credo, è impossibile Queste stanno chiuse in un convento Per la grazia del Signore Pregano E come mangiano? Come fanno una spesa? Che io le vedo pure che vanno in macchina Fanno la benzina Fanno tutte le sue... Quali cazzo di soldi? No! Cazzo di soldi